Ciao a tutti, sono Pino Mercuri e sono liceo director di Microsoft Italia. Microsoft Italia crede molto nello smart working, ne ha fatto una vera e propria filosofia applicata tutti i giorni in azienda. Crede che liberare le energie e la passione delle persone che lavorano per l'azienda sia un passo importante per migliorare la produttività delle persone stesse che lavorano in azienda e per avere un impatto positivo sulle performance dell'azienda. Crediamo che per rendere attivo e vivo questo progetto siano necessari quattro elementi. L'elemento della cultura, una giusta cultura che deve accompagnare le persone in questo viaggio, i giusti strumenti di tecnologia che devono mettere in condizioni le persone di lavorare in maniera efficace, i spazi lavorativi e il merito che deve essere al centro di ogni ragionamento dell'organizzazione. Ciao a tutti e buon smart working.